Ciao a tutti ragazzi, eccolo qua il mio primo ordine da Everester a Self Home Nutrition. Vi ricordo che esiste un codice sconto per avere i prodotti di Self Home Nutrition al 50%. Vi ho comprato le barrette ragazzi, le ho pagate 24 barrette a 24 euro con lo sconto del 50%. Ma adesso andiamo ad aprirle insieme. Questo sconto è valevole solo per gli Everester. Però se scrivete a Fabrizio Dolce, e lascerò sotto l'email di Fabrizio Dolce, Fabrizio Dolce vi farà avere un codice sconto del 50% anche a voi. Basta che gli dite Fabrizio, ho visto il video di Fabio, ha detto che c'è un codice sconto. Lui vi rilascerà il codice sconto per prendere i prodotti di Self Home Nutrition. Eccoli qua ragazzi, io ho preso le barrette al cioccolato, cioccolato nocciola. Sono barrette proteiche, queste subito dopo il post allenamento. e sono spettacolari ragazzi. Allora, una barretta che è di 45 grammi, ha 200 calorie, 206 calorie, 4,5 grammi di grassi, 20 grammi di carboidrati e 16 grammi di proteine. Apriamo, ecco qua ragazzi. Ovviamente il 50% è per tutti i prodotti di Self Home Nutrition. Ok, spero che quest'altro video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando, se volete lo sconto del 50% mandate un'email a Fabrizio Dolce e niente, Self Home Nutrition, grazie per avermi mandato questo pacco e per avermi fatto lo sconto del 50%. Come al solito ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, mettete pollice in su, accendete la campanella e iscrivetevi al canale, perché è gratis. Ciao! Mamma mia, che provo a mangiarmi!